Trasformo una fontana in un terrario per tartarughe di terra. Prima cosa stendo bene la sabbia e poi ci vado a piazzare un paio di tane. Dopodiché fisso la rete che farà da recinto ed infine un po' di insalata, una ciotola d'acqua per rinfrescarsi e questo qui è il risultato finale. È un terrario provvisorio.